La tigre del farweb che gioca a minecraft con quel volume che c'è Yook 4316 Ehi siamo tutti qua rieccoci Ma che cazzo? Cioè questo è il continuo dell'episodio scorso Ok? Ehi 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 Ciao a tutti ragazzi sono Yook e benvenuti in questo nuovo episodio Siamo tutti qua riuniti quest'oggi per celebrare la santa messa No Allora, 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 allora Eravamo arrivati a questo punto Qua uscirà il nostro materiale Qua ci noi ci mettiamo un bel Benderbuck Pampete Vai, vai Xander, vai Xander, tutto tuo Ok, cominciamo a impostare il nostro Tesseract Prima di tutto lo mettiamo privato Perché almeno Ah, è l'onere Yook, non posso toccarlo Sei tu il proprietario Quindi puoi farlo solo tu In alto a destra Vi dice Proprietà Solo tu puoi toccarlo Se puoi metterlo privato Vai No, non posso Adesso l'hai bloccato a tutti Vai, aperto Vai, aperto Pubblico, vai Aperto Ogno pubblico E poi andiamo sotto in configurazione Vi dice la configurazione Allora, vai All'items li mettiamo Ah, guarda Tutti vediamo Per cui l'items invia Poi affare che riceve la corrente Fluide per ora non ci interessa E poi mettiamo energia che riceve come già preimpostato Il terzo è l'energia Ok Perché noi dobbiamo inviare l'items che raccoglie E ricevere la corrente dal nostro impianto di farm Esatto Potremmo anche inviare i fluidi che escono da Non inviamo più un cazzo Sei zitta Ora Ora Desive inactive Mettiamo uno Ok Xander Fatto Ah, tu stai mettendo la frequenza Allora E lì mettiamo la frequenza Vabbè, se non mettiamo l'altro test Rack è un po' brutto Però vabbè Allora, andiamo alla farm Tutti alla farm Yuppie 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 Il problema è che abbiamo le fornaci per qua La carfonella Yuppie Come sculetti Xander Corri 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 Allora 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 Le fornaci Dove le mettiamo? Bella domanda Eh Eh Bella domanda Perché qua la cosa bella Qua non c'è spazio Facciamo le fornaci Ok Ma i motori? Possiamo mettere le fornaci da sto lato E i motori dall'altro E quanti ne mettiamo i motori? Una decina qua ci stanno Sì Metteremo i generatori Perché tanto poi useremo Quell'altra mod Che non dico Per non spoilerare Ok Ne parliamo dopo la pubblicità Vai Allora Vai È fatta È fatta È fatta Chi ha le fornaci? Chi ha le fornaci? Mettile qua Mettile qua E ripetta la pubblicità Will era me Mi ha capito Ragazzi 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 Guardate che No ragazzi Insultate Will Abbiamo le fornaci Ma dai Will No Ma il chip mi ha fatto queste Ho detto le fornaci della terra Ma l'espanso Non le fornaci Ma no Mettiamo il chip Il chip Che se no Vabbè ragazzi Io non ho parole Io non ho parole Io non ho parole Cioè io non sto scherzando No io non ho parole No niente Vabbè intanto mettiamo il tessera Che unite qua Vabbè perché se no Mettiamo il tessera Intanto qualcuno gratis Vado a farle io le fornaci Quante te ne servono Lu Io non ho parole Vai le metti per tanto Un chip che le ha fatte Ok questo testera Che invece Siccome è qui Un attimo A me mi hanno detto Fai le fornaci Lo fatti Quante ne faccio Dieci Questo siccome è quello ricevente Lo mettiamo al contrario Ovviamente Quindi gli oggetti Li riceve E l'energia La manda Ok perfetto Ora possiamo mettere la frequenza Ora possiamo mettere la frequenza E allora Prima di tutto scegliamo quella che ci piace Vai uno Dieci Uno E la chiamiamo Farm alberi Si vede quello che sto scrivendo No Non si sente Io ho scritto Ho scritto farm alberi E adesso clicco su save frequency Sul più Vedete E me l'ha giunta sotto La vedete Adesso si Ok adesso potete selezionarla Cliccandola Con sinistro E poi fate v in alto Set frequency E l'avete selezionata Ok perfetto Se andiamo Se andiamo dall'altra parte Troveremo la stessa identica frequenza Dobbiamo collegarli Esatto E possiamo fare la stessa cosa Gapens B Sbampete One dis BAM Forte collegati Non abbiamo brick Non abbiamo argilla Come no Eh no Non abbiamo argilla Ragazzi abbiamo l'acqua Dai ma che Dai si fa Si fa Abbiamo la sand Eh a voi Qua dentro ce ne sarà Nessun problem Ah prendete direttamente La dust La dust Dai ragazzi vinte qua Ci sono i barrel One Two One Two Dai 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 Vinte qua da me Sopra E sopra E qua qua sotto 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 Raga Dove Non perdiamo un altro episodio Senza fare un diamine di Kaiser Dai Raga quale crafting sono Raga Mi Ciao raga Ci ha detto sotto Eh qua di qui Ha detto sotto Allora prima ha detto I barrel Ma io so Gia da avanti Lo fa fotta Lo vede sullata Va a vincere Dai 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 Buttate Chi ce l'ha Ragazzi nessuno di voi Ha preso la dust Grandissime Ragazzi Siete quattro calabroni Veramente Veramente Io non gioco più con voi Basta No no è diversa la questione La dust non c'è perché Sono spenti i macchinari È tutto consumato È vero Questa è un martello Ce l'ho ce l'ho Mettete altra acqua se ce l'avete Acqua secchio Acqua secchio Acqua secchio Eh sì Mi servono i brick Will Dai Dove ce l'hai Mi prendo l'acqua E qua è secchio Dove L'argilla sta cuocendo Dai mettete acqua Mettete acqua Che io butto la dust Dai dai acqua Se mi porti secchio Will Guarda Luke dove è Agile Scattante sulla fascia Non ci sono Ah ce l'ha lui i secchi Ecco perché Ragazzi non c'è carbone Dove sta? Basta L'ultimo pezzo di dust Mi ti caccio Ho un secchio Fatto avanti e indietro È diverso Siete voi che siete veramente Quattro moscerini qua A giocare Ora mi guarda Non ho parole Guarda Stato che mettiamo a posto Ok andiamo a finire di là Intanto noi Gli altri rimanenti Vai Andiamo 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 giù Andiamo giù Andiamo giù Qua possiamo Chi ha un martello Un mattone Un mattone Un martello Un piccone Cosa vuoi dire? Rompete questo pezzo Ok è un piccone Ok ci sono Ok Attenzione al buco One is Bam For the HG Ok Qua sotto anche? Sotto il tubo qua? Spaccato 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 E levati Ok Tutto il tubo Ok Andiamo giù No 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 Che mo fa l'attacco da giù Ah perfetto Prego 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 Ok allora questo qua Dobbiamo portargli sia la corrente Prima cosa importante Giusto? Bam E li portiamo la corrente E poi li portiamo questo tubo di item Perché? Dobbiamo fargli arrivare gli alberelli Stapling Sì Bam Ora qua li mettiamo un pneumatic serbo Eh Sì dovremmo farli E li diciamo Li diamo la blacklist E li diamo l'alberello Bam Ok? Facciate Fatto? Qua arrivano tutti gli alberelli Bam Quando poi è pieno Logicamente gli alberelli Andranno poi a smeltarsi Che cazzo ne so Li butteremo Vediamo Ok Li butteremo Perfetto? Sì Perfetto Ora qua Facciamo in questo modo Bam Ok? Yes Ok Qua non c'è bisogno di cambiargli la gittata Vero? No No Perfetto Ora altra cosa fondamentale Di qua Ci servirà un tubo liquido Perché poi andremo a mettere anche lo slidge boiler Poi lo vediamo più avanti Beh beh adesso Ci servirà il liquido Perfetto ragazzi Noi siamo pronti Dove metto le piante? Non siamo pronti per un cazzo Cioè lo schiavo Anziché dare una mano a fare Sabbia Veto Fai i matti Will Tu dovresti fare le fornacce Will Ma se non mi dico cosa serve Non so cosa fare Il vetro c'è già Allora Da qua Ci servono blocchi di vetro Deve Ci sono del vetro C'è il vetro Però raga Deve entrare la corrente E devono uscire gli oggetti Ok Ma è finito il vetro Mannaggia È giusto? Sì Ora Qua mettiamo il rosso Gli oggetti devono andare direttamente Sopra i barrel Allora qua mettiamo le fornaci Giusto? Sì In teoria dovevo mettere Sono tre le fornaci Così giusto? Sì Possiamo mettere quante ne vuoi Per cui Qua faremo così Arriverà il carcicol Esatto La corrente la mandiamo di qua Dove metteremo i generatori in teoria Di qua uscirà il carcicol No aspettate un casino ragazzi Il carcicol Il carcicol Io lo manderei dietro Ora vi faccio vedere anche il perché Eh raga piccone Spaccate dietro Spaccate i bar No non i bar Dietro Ah proprio dietro Lu se vuoi c'è un fluid tank Allora da dietro Entra Spaccate anche qua Vai Ci siete? Sì Spaccate anche sopra Sopra qua Spaccate anche sopra Sotto lì Se mi darei un piccone Faccio anch'io Sotto cipo vai Vai bravo Vai Sbam Di qua vi ho detto che escono E va qua Ok Ok li facciamo entrare da dietro Bravo Da sopra usciranno invece Raga però se vi togliete Puttagna cagna ladra lava Eh vabbè ciao Da sopra uscirà il carcicol Perché entrerà la legna E uscirà il carcicol Giusto? Sì Sì Domandiamo dall'altra parte della stanza Domandiamo dall'altra parte della stanza Perché dall'altra parte della stanza Avremo 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 Quella è aperta I nostri generatori Aspetta aspetta Di qua abbiamo i nostri generatori Per cui ragazzi è una figata Ora Non è finita Perché da qua Non uscirà solamente la legna pura Ma uscirà anche Le mele Le foglie Le foglie Le foglie La legna La legna in eccesso Eccetera eccetera La mandiamo su Spaccatemi quella Quel piccolo lì Te l'ho dato Grazie Mi dite se Mi dite se arriviamo ai barri Per favore Vado a vedere Dovremmo arrivarci eh Sì sì Lui vai 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 Perfetto Cioè Dimmi che It's the perfect Oh Chi è qua Chi ha fatto Perché non raccoglie più Vai ti metti sopra E collega in qualche modo Tieni Tieni Perché non raccoglie più raga Andiamo subito a vedere Perché non raccoglie più Oh qualcuno ha messo mani O si è buggato No ma sta raccogliendo Sta raccogliendo Lui sta raccogliendo Guarda No non raccoglieva ragazzi Prima non raccoglieva Sono dovuto andare io Prima per raccogliere C'era il tubo rosso Ok ho capito perché Perché È la flint No non è vero Tronzo sto coso Perché non prende la flint Ok l'ha preso adesso No no ho preso tutto Però prima il tubo era rosso Sì era rosso il tubo Si è sbloccato all'improvviso Come se qualcuno Avesse toccato Raga Ve lo chiedo per favore Non mettete mani A cose che non sapete Fai Fai Miti Miti Che sta facendo Mi sto liberando l'inventario Ragazzi comunque l'impianto Per il momento è perfetto Avete fatto le fornaci Sì era cinque volte 3 machine frame Basta basta Ne bastava 3 Joe Veniti Che fai Che cosa di turbo No non è vero No spaki bar Cosa ti serve Mancano 7 machine frame Ancora Tavo elettrico Ah una cosa Deve arrivare corrente qua Eh Facciamolo Facciamolo andare giù sotto terra Che si collega sotto i polverizer No C'è anche qua guarda Sì sì è quello che dicevo Sì sì Eh Vabbè anche se si vede un tubo Che cacchio me ne fotte dai Bam Fatto E collegaci Collegaci anche il tester A questo punto E metti i generatori collegati da sotto Di là Tutto sotto Redstone silver Silver Perus Colm Ston Niva Ragazzi Tutto compatto Tutto perfetto Vabbè È figato sto cosa Che c'è no Che qua Vieni qui Che c'è Eh Continuiamo il cavo Togli sta batteria brutta Qua che sei rimasta lì sotto Quale batteria Ah E ora cadi giù No l'ho presa GG Che culo Sbam Aspetta qui metteremo i generatori Ragazzi ci servono solamente le fornace Noi siamo a cavallo E i generatori Ora il crafting dei generatori È facilissimo Sette coppie arrivo Serve solo tanto ferro E vanno di qua Beh facciamo quelli blu? Da sotto? Eh sì Sembrano i più facili Tanto ferro E delle fornace eccetera eccetera Blocchi di ferro addirittura Ragazzi noi di ferro Non abbiamo un bizzeffe Dobbiamo solamente cuocerlo E Una valanga Facciamo vedere il metodo più veloce Allora se noi andiamo dal ferro Guardate Ok Guardate quanti stack ne ho Venite qua Ragazzi venite qua Un attimo tutti insieme Venite qua Venite qua Allora noi sappiamo Che facendo questo qua di gravel Ora li faccio tutti Scusatemi Guardate Con quattro stack di ferro Con quattro stack di ferro Abbiamo fatto uno stack di questi blocchi Ok? Ci siete? Sì Ora iniziate a romperlo Col martello Mi raccomando Di diamante 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 chi è che ce l'ha? È l'Axander Ricordatevi Erano quattro stack di polveri Sì Però di questi blocchi Ce ne ha fatto solo uno stack Tacci Erano quattro stack di polveri Ora datemi tutta la polvere Che avete raccolto Buttate una addosso Un Awe Due Tre Uno Datemi tutto Datemi tutto Basta? Sì Erano quattro stack di polveri È diventata Una Due Tre Quattro Cinque stack e mezzo Aspettate Non è finita Non è ancora Entra la fortuna Al prossimo ciclo Entra la fortuna Ora Se notate Era uno stack Di quelli di gravel Giusto? Sì Ora abbiamo uno stack E 21 di questi E adesso ci esce anche la fortuna Pronto Xander? Preparate Per inventare Dove lo dico Eh sì sì Poi tutto questo Questa roba qua La automatizzeremo Tranquilli Che figata Vai vai Vi ricordate Quanti stack erano? Cinque e mezzo Cinque e mezzo Sì E ora L'ultimo stadio Entra in atto La fortuna Del nostro piccone Martello Vabbè martello Ragazzi buttatemi Tutti addosso Anzi Willa Tu vieni qua E raccogli Su terra Arrivo Arrivo Buttate 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 Questo è tutto ferro Fatto Ragazzi Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette stack Ora Questi sette stack Questo procedimento È figo Luma C'è un piccolo problemino Adesso Questa polvere La metteremo Nelle fornaci Eh C'è un piccolo problemino Con questo procedimento Perché È l'unico modo Per cuocere quella polvere È usare la tinker Ah È vero No Puglia Ah Dall'ex Nilo E la andremo a mettere Nella tinker Per questo noi Sapete che cosa facciamo Finiamo l'episodio E ci vedremo Al prossimo episodio Dai Luca Tutti l'ora è tutto Lo so che siamo figli di puttana Ragazzi Lo dico tanto ormai Ma È così che gira il mondo Ciao 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 Ciao